Ciao a tutti e benvenuti. Oggi voglio fare un video in cui voglio far vedere come chiudere un lavoro. La chiusura di sapere chiudere un lavoro è indispensabile per la lavorazione a ferri perché ci permette appunto chiudere il progetto iniziato. Ci sono diversi modi e vi voglio far vedere uno dei più facili, quello che usa tantissimo, molto veloce e ci permette chiudere in modo molto accurato, molto fine, con creazione di un sottilissimo bordicino che diventa robusto, quindi tiene bene il lavoro e senza stringere. Non si modifica la larghezza del progetto. Iniziamo. Ah, un'altra cosa. La chiusura può essere fatta sia sul rovescio del lavoro sia sul diritto. Ora vediamo sul diritto del lavoro. Allora la chiusura non è nient'altro che unire le maglie. Quindi guardate, devo fare questo lavoro. Devo elaborare le maglie, due maglie insieme, prima due maglie insieme, per il diritto. Guardate, vedete, faccio questa elaborazione delle maglie per il diritto. Quindi da due ne creo una. Ecco, lo aggiusto, non lo faccio troppo stretto, non troppo largo. Controllo anche con le ditte mi aiuto sempre, quindi prendo le misure. Torno a rimetterle di nuovo sul ferro di sinistra, vedete. Ora faccio di nuovo una elaborazione di due maglie insieme, quindi quella che ho spostato e quella subito successiva. Guardate, faccio una elaborazione per il diritto. Ecco, ora faccio scendere le due maglie, le faccio scendere giù e ho questa maglia che si è creata sul ferro di destra. Torno a rispostarla sul ferro di sinistra e il filo, mi raccomando, rimane sempre da dietro perché facciamo elaborazione per il diritto e ce lo sosteniamo con il indice di mano sinistra. Ok, l'ho rimesso, torno a rifare di nuovo una elaborazione per il diritto di due maglie, di quella spostata e quella successiva. Ed ecco un'altra, vedete, sempre controllo, non lo faccio troppo largo, non troppo stretto, non troppo largo. Mi regolo anche con il tocco, mi aiuto con la mano per capire bene l'emissione della maglia. L'ho fatto, l'ho rispostato e faccio la stessa cosa. Guardate, questo è il meccanismo che si, questa è la tecnica che si applica per tutto il ferro, quindi due maglie insieme, maglia, nuova maglia che si è creata, va rispostato sul ferro di sinistra. Ok, aggiusto, sistemo bene, cioè li controllo bene che sia la larghezza giusta, la lunghezza, la grandezza della maglia. Torno a rifare la stessa cosa, due maglie insieme. Ed ecco che ho creato una maglia, quindi ho diminuito, ho fatto questa diminuzione, quindi li sto diminuendo, quindi con questa tecnica di diminuzione li chiudo. E vedete che si crea questa bella trecittina, un bellissimo bordicino, secondo me da usare per le chiusure, perché abbiamo questa trecittina, questo bordino trecittina, che si crea anche ad esempio con avvio alla nordica, che spesso faccio, quindi vedete, si rispecchia, come l'avvio e la chiusura. Stessa cosa, faccio questa elaborazione di due maglie insieme, ed ecco, risposto e continuo così. ecco così. Torno a rispostare, vedete, sul ferro di sinistra e controllo. Guardate, con questo metodo, come vi avevo già detto, rimangono uguali, non c'è una restrizione da sopra. Infatti, per evitare la restrizione, ogni volta che fate, aiutatevi con la mano di destra a gestire bene la misura, sì, la misura del forlino della male che create. Ecco, l'ho rispostato, torno a rifarlo. Unisco due maglie, faccio una elaborazione per il diritto entrando, vedete, da dietro, così, controllo che non sia troppo largo, ma neanche troppo stretta, per evitare l'effetto di ristrenzione sopra e per mantenere la stessa larghezza. La rimetto sul ferro e faccio la stessa cosa. Pulisco, elaboro ed ecco un'altra maglia, torno a rimettere e così tutto il ferro. Vedete, una volta che l'ho elaborato, vedete, guardate, faccio la maglia, ok? E quando lo elaboro, non stringo, non la faccio un'asola più grande, la faccio scendere dal ferro, due prime maglie, e questa nuova la tacco subito di nuovo su quello di sinistra, così evito di fare un'asola troppo grande. Ed ecco, ancora, vedete, le ultime, stessa cosa. Le lavoro insieme, torno a rispostare e anche le ultime due vanno elaborate insieme. Eccoci qui. E questa è la nostra chiusura, semplice, semplice, con diminuzione, che è facilissima da applicare e ha questo bel risultato senza stringere il lavoro. Spero che questo tutorial vi è piaciuto e soprattutto ci sia stato utile. E ci vediamo con un nuovo tutorial. Grazie.